Questo programma è offerto da Ben ritrovati alla Brescia Bella Oggi siamo in via Berset 46 A visitare il nuovo negozio dell'associazione I Balconi Azzurri I Balconi Azzurri da anni lavora sul territorio di Brescia Ma nell'ultimo mese ha aperto questo piccolo negozio All'interno del quartiere di Fiumicello Entriamo a vedere Buongiorno Giuseppe Buongiorno, benvenuta Bene, siamo qui nel nuovo negozio Però quello che ti chiedo è Prima di tutto di presentare l'associazione Volentieri E dopodiché ci racconti invece di questa nuova iniziativa Di questo nuovo progetto Cosa siamo venuti a fare qua Esatto Benissimo, guarda Ti racconto che I Balconi Azzurri In realtà questo è Diciamo così Esprime poi quella che è stata l'idea Originale di Balconi Azzurri Quando abbiamo deciso di aprire Quando abbiamo deciso di fondare l'associazione Noi nasciamo in seguito alla prima pandemia Che è stato un periodo particolare Di là che viene appunto il nome Balconi Azzurri Dove appunto il Balcone in quel periodo Ha rappresentato un po' quella possibilità Di continuare a incontrarsi Laddove era impossibile farlo Ma soprattutto ti ricorderai anche tu Alessandra Ti do del tu mi permetti Perché sei giovane Ti ricorderai anche tu Alessandra In quel periodo erano nate quelle manifestazioni spontanee Di solidarietà fra di noi Dove appunto venivano calate le ceste dai balconi E dove chi poteva metteva Chi aveva bisogno prendeva Ecco abbiamo cercato nel rispetto di quell'idea Di creare delle realtà E nello specifico questa è una delle sei realtà Che abbiamo già creato Dalla metà dell'anno scorso Ai primi di quest'anno Che abbiamo chiamato proprio come progetto Ceste dai balconi Cioè un luogo all'interno del quale Se hai piacere porti Ma a maggior ragione se hai bisogno Vieni, trovi conforto, trovi ascolto e prendi In difesa anche di quella che può essere Un rispetto della possibilità di scelta Anche per quelle persone che magari Vedono un po' compromessa Quella che è la loro possibilità di scelta Ecco questo è quel concetto Quindi per capirci Io vengo in questo negozio E posso o dare un piccolo contributo E prendere un oggetto Oppure se non ho assolutamente possibilità Viene donato Allo stesso tempo Se ho qualcosa a casa mia In ottimo stato Posso donarlo perché Possa essere donato a sua volta E' proprio il concetto del Se hai bisogno prendi e se puoi metti Che il se puoi metti Non è semplicemente legato Alla possibilità di fare una donazione Ma anche semplicemente mettere a disposizione Del materiale che non si usa più E che evidentemente poi andrebbe Diciamo così smaltito Piuttosto che buttato via Ma anche solo la disponibilità di Noi diciamo sempre del tempo Piuttosto che del talento Che può essere messo a frutto E che può tornare utile a qualcun altro Faccio un esempio Fra le varie iniziative che abbiamo fatto Negli anni scorsi E' stata anche quella Che allo scoppiare della guerra Siamo stati credo i primi a Brescia Ad aver attivato dei corsi di italiano Per gli ucraini che arrivavano a Brescia Sempre attraverso una collaborazione Con una signora moldava Che parte tra l'altro di un'associazione Dei moldavi a Brescia Che si è messa a disposizione Quindi ha messo a disposizione Il suo talento tra virgolette A beneficio di quasi 85 adolescenti E ragazze che sono arrivate insomma Subito dopo lo scopere della guerra Questo è un po' il concetto delle ceste Ecco diciamo così di balconi azzurri Questo è un po' Ecco io però so che in questi anni Comunque sul territorio cittadino Voi avete fatto degli altri progetti Che hanno coinvolto Non solo i cittadini ucraini Ma gli adolescenti Bambini in fragilità Guarda Alessandra Ti dico mi fa molto piacere Che tu mi faccia questa domanda Proprio perché per scelta Noi come Balconi Azzurri All'interno dello statuto Dell'atto costitutivo Dell'associazione Abbiamo voluto non scegliere Nel senso che abbiamo cercato Di inserire all'interno dello statuto Tutto quello che poteva Permetterci un intervento Laddove ci si presentasse una richiesta O un'emergenza Quindi Spesso diciamo così Il mondo associativo si rivolge A una fragilità nello specifico E tratta quella Noi per scelta abbiamo cercato Di restare il più ampi possibili Questo ci ha permesso L'anno scorso ad esempio Di cominciare E di aprire poi un branco Di Balconi Azzurri Che abbiamo chiamato Nuove Abilità Proprio per creare dei percorsi Di inclusione Della disabilità All'interno di appunto Percorsi Laddove spesso la disabilità Risulta esclusa Ecco diciamo così Perché andiamo particolarmente fieri Quindi parliamo appunto Scusami di laboratori ludico sportivi Piuttosto che di manualità Piuttosto che di arte e terapia Piuttosto che di teatro Andiamo particolarmente fieri Dell'iniziativa Perché abbiamo cercato Di rendere importante E concreto Il termine inclusione Inclusione è una parola Che piace a tutti Che tutti usano Spesso anche in maniera Abbastanza impropria La nostra inclusione reale Sta nel fatto che Proponiamo dei laboratori Che sono laboratori Dove il bambino E' un bambino Il bambino con delle difficoltà Viene supportato da adulti Titolati a farlo Quindi educatori professionisti Piuttosto che tecnici Del settore Del laboratorio Che andiamo a proporre Quindi Questi bambini Che possono anche presentare Dei limiti E delle fragilità Come può essere rappresentato Ad esempio La disabilità cognitiva Piuttosto che lo sviluppo atipico Sempre a livello cognitivo Diciamo così Vengono inseriti In contesti di normabilità Supportati O dal gruppo stesso Che si viene a creare O eventualmente Da educatori professionisti Che vengono chiamati in forza A Balcone Azzurri Per poter supportare Queste fragilità Io ti faccio una domanda Più generica Per poi ritornare A questo ultimo Vostro progetto L'esperienza Che avete avuto Incontrando le persone E anche in questo So che è da poco Che è stato aperto Però C'è stata una grande richiesta Comunque ci sono già Diverse persone Che frequentano il negozio Quindi chiedo a livello Di rapporti Con le persone Che avete incontrato Come Come ti sei sentito Allora Io invito Chiunque abbia La possibilità A Passare A trovarci Se vuole Insomma eventualmente Ma comunque A dedicarsi A iniziative Di questo tipo Perché in realtà L'incoraggiamento Più grosso E la voglia Più grossa Di continuare Ad andare avanti Ti viene proprio Da quella che può essere Permettetemi il termine Che è brutto da sentire Però per render l'idea Da quella che può essere Un'utenza Io ti dico Che noi l'anno passato Abbiamo iniziato Questo spazio Che adesso vi farò Assolutamente vedere tutto Che prevede anche Uno spazio dietro Dove terremo dei laboratori Magari con un numero Contenuto di bambini E' appena nato Ma in realtà Rientra all'interno Di un circuito Di una rete Interna a Balconi Azzurri Di sei punti Questo è il settimo punto Che noi apriamo Qua a Brescia E' il settimo Perché ne abbiamo Altri sei In tre regioni Sparsi in tre regioni Fondamentalmente Questo permette anche Di creare uno scambio Fra noi stessi Cioè se la persona Di Brescia Ha bisogno di un passeggino E io non ce l'ho a Brescia Ma ce l'ho a Bergamo Piuttosto che a Mestre Qualcuno dei nostri volontari Insomma si prende carico Di andare a Mestre E prendere il passeggino Che può servire a Brescia Piuttosto che da Brescia Portare a Bergamo Quello che può magari Essere richiesto da Bergamo Fino alla fine dell'anno passato Abbiamo fatto due calcoli Anche per dare un po' Per darci una forma di coraggio A continuare Fondamentalmente E abbiamo registrato 225 accessi Alle nostre ceste sospese Questo significa che siamo riusciti Ad arrivare a 225 persone Che altrimenti non avremmo intercettato Nella necessità che avevano in quel momento E che comunque 225 famiglie Sono tornate a casa Con il sollievo Di aver recuperato una merce E un valore Che diversamente Non avrebbero potuto permettersi Quindi questo è un po' Il concetto Quando dico Fino all'anno scorso Parlo da settembre A dicembre dell'anno passato Contiamo quest'anno Di realizzare Dei numeri sicuramente più importanti Purtroppo Dico purtroppo Perché in un mondo giusto Io non avrei Non dovrei avere necessità Di esistere Perché vuol dire Che non c'è Un bisogno Dall'altra parte Che chiede Ecco questo è un po' Il nostro pensiero Però vabbè ci siamo Allora vuoi dirci Quando è aperto Questo negozio Quando possiamo trovarvi E i progetti Che avete già Iniziato ad abbozzare Sul territorio cittadino Allora il negozio Che lo chiamiamo negozio Ma è data La cesta Dei balconi azzurri La cesta È aperta Da lunedì Al giovedì Tutte le mattine Dalle 9 alle 13 In più Comunque abbiamo Che poi se vuoi Ti fornisco Alessandra Abbiamo anche la possibilità Eventualmente In orari diversi Se non ci doveste trovare Assolutamente Di contattarci E anche per richieste particolari Che magari Non possono essere In quel momento Presenti qua Quindi Telefonando al 348 3347 623 Volendo Posso fare Un'apertura extra Assolutamente Oppure Posso chiedere O concordare eventualmente Esatto Concordare Un passaggio mirato Faccio per dire Passi Hai bisogno di un passeggino Io in questo momento Non ce l'ho Dai una chiamata Mandi un whatsapp E ti rispondo Passa mercoledì Che sicuramente Avrò modo di fartelo recuperare Gli altri progetti invece Gli altri progetti Allora Adesso Abbiamo appena terminato Un progetto di fumetto Inclusivo Un laboratorio Di corso Fumetto Inclusivo Appunto dove Anche là Abbiamo inserito All'interno Abbiamo creato Un gruppo Omogenei Di bambini All'interno dei quali C'erano anche dei bambini Con difficoltà E che magari Non avrebbero avuto Possibilità di accedere A corsi diversi Da questo E l'abbiamo appena finito L'abbiamo tenuto Allo spazio mix Spazio comunità Del mix Che è in via Milano Al 105 105 Esatto Ti dirò Che stiamo Per organizzare Adesso Anche dei progetti Ludico Sportivi Per la primavera Estate E poi Vabbè Tanti e tanti altri progetti Che però ti dirò Nel momento in cui Li abbiamo realizzati Perché noi siamo Dell'idea che Se una roba Non c'è Non c'è Se una roba Non c'è La prometti Non la fai O la fai La fai male Peggio Perché crei delle aspettative Che poi vai a deludere Quindi noi siamo Dell'idea che Bisogna raccontarsi Quando si hanno I fondamenti Per poterlo fare Se no Diventa soltanto Mero vanto Bene Adesso Siccome ci hai fatto Una promessa E noi siamo curiosi Facci vedere La cesta Di bambini Ma io ti prego Ti prego assolutamente Allora Questo è lo spazio Espositivo Diciamo così Showroom Permettimi sto termine Alessandra Showroom In realtà Non c'entra niente Perché questo In realtà Vuole sembrare Che poi eventualmente Posso a fronte di un'offerta Posso assolutamente darti Il discorso Era quello che ti dicevo prima Siamo assolutamente Certi e coscienti Qualcuno penserà Ma c'è già Altri grandi istituti Che lo fanno Fanno distribuzione Anche di vestiario Piuttosto che Vero e sacrosanto Negli anni E nella varietà Di territori Che abbiamo Coperto Come balconi azzurri Abbiamo un po' Risentito Un po' Di questo Non dico atteggiamento Ma di questa Routine E cioè Se hai bisogno E chiedi Ti arriva Quello che ti arriva E te lo fai piacere Se non ti piace Vuol dire che non hai bisogno Non è sempre vero Perché Nell'ottica Di pensare Che comunque Ipotizzando Che io Possa essere una mamma Con un bambino Che ha bisogno Di vestirsi Piuttosto che ha bisogno Di giocattoli È vero che quello Che ricevo Lo utilizzo Perché se ho bisogno Mi servirà anche quello Però è anche vero Che mio figlio Poi andrà a scuola Si confronterà Con altri bambini Che magari Non vengono Dalla stessa realtà E non hanno La stessa sensibilità Ecco Questo spazio Vuole essere proprio A tutela Di quella Pudore Di quella dignità Ecco Che vogliamo Assolutamente Riconoscere a tutti Adesso facci vedere Gli altri mezzi Prego Accomodatevi Quindi questo Ti dicevo È il primo spazio Poi Facendo queste scale Meravigliose Che vi portano In un mondo Ancora più meraviglioso Questo è lo spazio Invece Che dedicheremo Alle Ai laboratori Che andremo Ah vedo che è già preparato Quindi Questo pomeriggio Ospiterete Abbiamo un laboratorio D'arte Un laboratorio D'arte Che vede coinvolti Fra gli 8 I 10 bambini Fra i 5 E gli 11 anni Che vengono E stanno insieme Ecco Diciamo così Stanno insieme Per ottenere Un risultato Che è quello Assolutamente Di andare a Realizzare Qualcosa Che prima Non c'era Ecco Quanti volontari Attualmente Vi aiutano In tutto questo Guarda Io sono Un bambino fortunato Posso dirti Che sono un bambino fortunato Una volta però sì Una volta Una volta Sono stato un bambino fortunato E continuo a vivere Di quella fortuna Perché Balconi Azzurri Che è nata Dal niente Perché io Conosco un po' Mi sono un po' Informato Sai Alessandra So un po' Chi sei tu E da quale realtà vieni E so perfettamente Che anche tu Sei abbastanza abituata Ad avere a che fare Con il mondo associativo Il mondo associativo È un mondo Di persone meravigliose Tutte assolutamente dedicate Negli anni Ci siamo accorti Che superato Il primo scoglio Che è quello Fondamentalmente Di crearsi una credibilità Perché È giusto Ed è sacrosanto Con tutto quello Che si sente in giro Se ne sentono Di tutti i colori Quindi Se devi partire da un punto Non parti dal punto zero Ma parti dal punto meno uno Perché intanto Devi arrivare allo zero Creandoti una credibilità Cioè All'interno di tutto Quello che si sente Che se ne sentono Di tutti i colori Tu intanto Devi dimostrare Di non essere uno Che ne combina di tutti i colori Poi Devi cominciare a realizzare Delle progettualità Fatto quello Oggi come oggi Balconi Azzurri Conta A seconda appunto Del periodo Fra appunto Collaboratori E volontari Un'ottantina Di persone Che Se non quotidianamente Ma settimanalmente Mettono assolutamente Il loro impegno E il loro talento Quindi andiamo Dalla volontaria Alla pensionata Che è a casa E che magari Vuole impiegare del tempo All'educatore professionale Che magari Si mette a disposizione Al tecnico Di attività sportiva Piuttosto che Di laboratorio Teatrale Alle signore Che abbiamo intercettato Magari perché All'inizio Avevamo preso in carico Come sostegno alimentare Come spesa settimanale Che poi Come forma di Riconoscenza Vengono a Dar supporto A quelle che sono Le nostre iniziative Bene Io ti ringrazio Giuseppe E ricordiamo Che Questo Cesto Le ceste Dei balconi Azzurri È aperto Dal lunedì Al giovedì Mattina Il giovedì pomeriggio Però anche Giovedì pomeriggio Siamo qua Per i laboratori Allora Dipende dal laboratorio Nel senso che Solitamente noi I laboratori Li facciamo in età In orari Extrascolastici E quindi Dalle 17 Alle 19 Solitamente I laboratori però Hanno una ciclicità Che non ci fa Star tranquilli Nel dire Siamo sicuramente aperti Ci trovate sicuramente Tutti i pomeriggi Perché magari Poi qualcuno viene Non ci trova Perché magari Il laboratorio è finito Ecco Volta in volta Sapere quali sono Le attività Che state ipotizzando Allora Noi abbiamo Abbiamo un sito internet Che cerchiamo Con le capacità Che abbiamo da boomer Si può dire boomer In televisione Sì Con le capacità Che abbiamo Di tenere sempre Aggiornato Che è www.balconiazzurri.it Ovviamente con le relative Pagine social Quindi sia su facebook Che su instagram Dove rilanciamo Evidentemente Ed eventualmente Tutte quelle che sono Le attività Che abbiamo O già programmato O che intanto Si stanno svolgendo Ecco Una cosa Che ci teniamo Sempre a dire È che Difficilmente Vedrete Dei volti E dei visi Sulle nostre Pagine social E sul nostro sito Proprio per il rispetto Di quella dignità Che dicevamo prima Perché siamo Abbastanza coscienti Del fatto che Tutto fa tenerezza Ma non siamo qua A far tenerezza Siamo qua Insomma A dar supporto Là dove ci sia bisogno Quindi Chiunque vuol passare È il benvenuto Assolutamente Bene Grazie mille Grazie Alessandra Grazie ancora Grazie mille Bene E noi Per la Brescia Bella Con oggi Da Ceste dai balconi Via Brescia 46 Ci Ci diamo appuntamento Alla prossima puntata Questo programma È offerto da Ciao a tutti i nostri spettatori Ciao a tutti i nostri spettatori